Siete disposti ad accogliere con amore i figli e Dio vorrà donarvi e educarti secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì, sì. Io, Nicolò, accolgo te, Emanuela, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Emanuela, accolgo te, Nicolò, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.